buon diiii a tutti è l'uno e un quarto forse voi state non so bene che cosa starete facendo ma magari state già uscendo da scuola cavolo fate aspettiamo potta che si va a pranzo all together ciao sei a scuola ma allora non devi guardare l'eperiscopo quando sei a scuola scusa non potete guardare l'eperiscopo quando siete a scuola ragazzi poi dopo è colpa mia se non state attenti ciao ciao a tutti io c'ho sempre questa antenna è possibile ciao devo andare a pranzo ma stiamo aspettando potta siete usciti a scuola come è andata a scuola che state facendo di bello sono a milano certo che sono a milano sono a milano da tipo boh 15 giorni di fila ciao si praticamente non vado a casa da tantissimo però ora sto cercando la casa oggi pomeriggio vado a fare un giro in varie zone di milano per vedere se trovo delle case con chi sono? sono con tutti i membri dell'agenzia e poi arriva anche potta che è dentro al telefono sempre state tutti ti guardano male perché sentono la tua voce ciao tu che stai passando accanto a questa ragazza ciao cosa mangerai boh non lo so onestamente non lo so proprio grazie ma in realtà sono stanchissima stamani cioè io sto veramente morendo di fama non fa mai che muoio in questo momento ma va bene così adesso stiamo andando tipo e non lo so cioè è un ristorante italiano normalissimo quindi ho pizza o comunque stavo qui è arrivato potta? no non è arrivato potta niente ciao vabbè non me lo vi io vi volevo soltanto salutare tantissimo e augurarvi un buon pranzo e basta ho fame tantissimo sì va bene comunque adesso tra pochissimo stiamo per andare al ristorante quindi ci sentiamo poi dopo magari ragazzi buona giornata buon pranzo a tutti e vi mando un bacione enorme ci sentiamo presto ciao 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 di nuovo tanto periscope tutte le volte che lo devo chiudere non funziona non funziona proprio mio dio non funziona la chiusura del periscope vediamo se ce la facciamo eh non ce la possiamo fare ragazzi no non funziona via allora rimaniamo così in periscope anche a pranzo potta è ancora il telefono dai potta potta non sta bene non sta arrivando potina ah ma ecco morelli ma anche morelli viene a mangiare ciao maggioni ciao luke ma in realtà perché sono ancora in live perché non riesco a chiuderla perché non mi si chiude no ciao 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 tutti che scrivono dai potta vai ce l'ho fatta chiuderla ciao ragazzi ciao 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 ciao